Buongiorno, allora questo è il mio primo chairman update, diciamo, il primo, dove vi farò vedere le mie prime creazioni. Allora, partiamo da quelle, diciamo, già montate, le tengo in questa scatola qui. Allora, vi faccio vedere quelle nuove, perché alcune già nei primi video per presentarmi ve le ho già fatte vedere. Allora, ho fatto, con gli stampini, queste, diciamo, mollettine, vedete, con la te, con la colla, con gli orzetti. Questi qui sono, appunto, gli orzetti di uno stampino. Sempre mollettine, ho fatto il panda, questo, e il croissant. Questo qui l'ho fatto io, cioè, senza stampino, oppure il panda. Poi, vediamo, allora, questo bracciale, che ha dei cupcake, sono mezzi al contrario, e gli zuccherini, vedete? Noi li chiamo tutto a soncini di zucchero, o quel che è. Poi, cos'è che non vi ho fatto vedere qui? Questo qua l'avete già visto, il gufo, il specchietto. Anche questo è un bracciale, con le fettine di torta e i cupcake di vario colore. Due gialli e questo qui, rosa. Ok, e ora vi faccio vedere le creazioni, quelle che ho ancora da montare, o da aggiungere al decoden, e varie cose. Eccoli qua, che le ho tutti in questa scatolina qui. Allora, questi sono vecchi, mamma mia, proprio così. Allora, cosa ho fatto? Ho fatto questi, che sono, diciamo, i lecca-lecca, cioè, questi qua, eccoli qua, questi due lecca-lecca qui. Poi ho fatto, dov'è che... Eccolo, il topolino, questo topolino qua. Poi, la mucca, questa mucca qua, che tiene la ciambellina. Poi, aiuto, eccolo appunto, il pinguino con il cappello. Questo è lucidato con il... Eeeh, vabbè. Allora, poi, c'è questo orso, questo qua. Ho lucidato la parte della pancia, il fiocco, questo. Poi, la borsetta della... Ho provato a riprodurre la borsetta, che è venuto abbastanza bene. Poi, di nuovo, mi sa che... Eccolo, qui. Lui, questo coniglietto, che insomma, non è che mi piaccia abbastanza. Però, vabbè, l'ho fatto e lì rimane. Poi, vabbè, ho fatto due paio... C'è un paio di gelatini, così. Questi qua, questo. E ci dovrebbe essere anche l'altro, che l'ho visto. Infatti, eccolo qua. Questi qua. E poi... E poi... Ecco, appunto, eccolo, vedi, è uscito. Questo biscottino fatto a fiore, con lo stampino. Questi sono vecchi. Questa sarebbe una bustina da tè. Questi sono vecchi, non ci interessano. Questo è un cupcake. Fatto con lo stampo... Con lo stampo... Più che un cupcake, direi una torta. Qualcosa di simile. Poi, poi, vabbè, qua c'è il gufo, l'avete visto. Panini, Peppa Pig. Il viso di Peppa Pig è venuto, secondo me, benissimo. A parte il fiore dietro, che fa un po' schifo, però, poi... Vabbè, i polipetti li avete visti. Le varie... I vari croissants li avete visti. E niente, cioè, per adesso non mi sono cimentata in cose... Questo è il riccio. Questo è un cuore bruttissimo. Questo è il riccio. Che ho copiato da un tutorial, ma non è vero, so, molto... Sono le prime armi, dovete scusarmi. E poi, niente di che... Gelati, cacchine, varie... Totoro, mi sembra, si chiama lui. Sì. Ha schizzato via il naso. Poi... Questa è la Pokéball che avete già visto. E niente, questi sono, vabbè, diciamo i miei nuovi charms. Che, comunque sia, sono sempre tutti da montare e... E niente. Ok. Raccolgo il pinguino che è volato. Ciao amore, ciao Kira. Questa è Kira, è il mio cane. E vi saluta. È mattino presto, io dovevo andare a lavoro stamani, ma... Ci asciapero dei mezzi, c'è un po' di confusione e mi sono presa un giorno. E Kira è molto felice perché si fa riprendere. Vedo? Questa fotocamera non mette mai a fuoco, io non riesco a capire il motivo. Comunque, un bacio. Ciao ciao.